Abbiamo convocato ovviamente a commento dei risultati sulle elezioni regionali, abbiamo aspettato come avete visto ad avere i dati definitivi, so che andiamo un po' di fretta perché non voglio sovrappormi con l'inizio delle celebrazioni al Quirinale in occasione del giorno della memoria, anzi voglio chiaramente unirmi in questo 27 gennaio al ricordo le vittime della Shoah nel 75esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, dicevo una conferenza stampa che abbiamo voluto convocare ovviamente a commento dei risultati delle elezioni regionali, chiaramente non si può non partire dalla straordinaria vittoria del centrodestra in Calabria, ovviamente voglio fare enormi auguri di buon lavoro a Viole Santelli che ho sentito, sarà per noi, per tutto il centrodestra una grande sfida cambiare il destino, il futuro della Calabria di una regione che merita molto di più, che può avere molto di più, voglio dire che sono molto contenta di questo risultato anche per chiaramente la portata del dato complessivo della coalizione di centrodestra ma perché la Calabria dice a gran voce che c'è un Sud che rifiuta la logica assistenzialista del reddito di cittadinanza, c'è un Sud che chiede sviluppo, che chiede la possibilità di compendere armi pari, che chiede infrastrutture, che chiede di essere messo nella condizione di dimostrare il suo valore, poiché Fratelli d'Italia è stato il primo partito che ha detto da subito, da sempre, che non era la logica assistenzialista la risposta per combattere la povertà, per combattere le difficoltà del mezzogiorno d'Italia, sono davvero fiera che i cittadini della Calabria abbiano dato questa risposta. Chiaramente questo vuol dire anche una grande responsabilità da parte nostra, Fratelli d'Italia ha fatto una campagna elettorale parlando prevalentemente di infrastrutture, di cittadinanza, di sostegno alle imprese, di sviluppo del territorio, di come fare a riportare a casa i tanti, i troppi giovani costretti a scappare dalle loro terre e saremo ovviamente coerenti con quel racconto nel sostenere il lavoro di Ole Santelli. Siamo contenti di avere una significativa pattuglia di consiglieri regionali che potrà darle una mano. Ovviamente Fratelli d'Italia c'è, con grande responsabilità, continueremo a essere presenti in Calabria nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e nei prossimi anni. In Emilia Romagna abbiamo corso per vincere, non ce l'abbiamo fatta ma penso che si debba essere comunque molto soddisfatti del risultato del centro-destra e quindi ovviamente voglio ringraziare la nostra candidata Lucia Borgonzoni. La vittoria sarebbe ovviamente stata qualcosa di epocale ma penso che anche aver tenuto tutti col fiato sospeso fino all'ora tarda, all'ora molto tarda, ieri notte, segni la fine di un'epoca. Non esistono più le roccaforti, ogni territorio è espugnabile e si può fare la differenza, bisogna continuare a lavorarci e a battersi perché tutto è contendibile. Oggi noi abbiamo una sinistra che festeggia, francamente io non credo che ci sia molto da festeggiare da parte della sinistra, nel senso che dalle elezioni politiche oggi si è votato in nove regioni, centrodestra ha vinto in otto casi, voglio dire se poi in uno la sinistra riesce a mantenere una sua regione storica, io insomma in una partita di calcio se una squadra fa un gol dopo averne presi otto tendenzialmente un festeggio. Dopodiché credo che anche il governo non ne esca rafforzato, l'area di governo perde complessivamente altri cinque punti, i 5 Stelle sostanzialmente scompaiono, questo produrrà dal mio punto di vista anche un discreto nervosismo all'interno dell'area di governo e quindi non mi pare che da parte loro ci sia molto da festeggiare. In ogni caso in campagna elettorale, in Emilia Romagna, anche in Emilia Romagna, Fratelli d'Italia ha fatto la campagna elettorale parlando dei problemi concreti di una regione nella quale nell'ultimo anno hanno chiuso quasi 800 imprese artigiane, una regione che è una locomotiva, sicuramente una locomotiva ma che secondo noi può avere molto di più e quindi ovviamente siamo pronti anche lì con una nostra significativa e importante battuglia di consiglieri regionali a fare una opposizione costruttiva per cercare di fare in modo che l'Emilia Romagna possa avere lo sviluppo che merita perché io continuo a essere convinta che l'Emilia Romagna sia una locomotiva non grazie al lavoro del Partito Democratico, continuo a credere che lo sia nonostante il Partito Democratico e quindi la presenza importante oggi di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale sarà ovviamente dedicata a migliorare le condizioni dell'Emilia Romagna e a portare nel Consiglio regionale le tante istanze che abbiamo raccolto in questa importante campagna elettorale. Voglio dire che sono molto contenta del risultato di Fratelli d'Italia in queste elezioni regionali, direi che decisamente Fratelli d'Italia ha fatto la sua parte, a livello di partiti voi sapete che io sono una persona che ha il senso della misura ma guardando i dati dei partiti Fratelli d'Italia è il vero vincitore di queste elezioni. È l'unico partito che cresce sia in Emilia Romagna che in Calabria, è l'unico partito del centrodestra che cresce, è il partito che cresce di più in Emilia Romagna, cresce più del Partito Democratico. Abbiamo raddoppiato in Emilia Romagna i nostri voti dalle elezioni europee, quindi in sei mesi, sia in Calabria che in Emilia Romagna, dalle ultime elezioni regionali abbiamo praticamente quintuplicato il nostro consenso. Direi che possiamo complessivamente essere molto soddisfatti di questo dato anche se, soprattutto se calcolate che eravamo l'unico partito di centrodestra che non aveva un proprio candidato presidente, perché erano uno della Lega e uno di Forza Italia e ciò nonostante noi siamo l'unico partito che cresce, il partito che cresce di più. Quindi ovviamente siamo molto contenti di vedere premiate la nostra coerenza, la nostra concretezza, fare una campagna elettorale tra la gente parlando dei problemi della gente. Confidiamo di fare la differenza anche per le prossime regioni che vanno al voto, come sapete ci saranno altre sei regioni che voteranno in primavera, sulle quali ci consideriamo già al lavoro, a partire dalle due regioni nelle quali è stato chiesto al Fratello d'Italia di esprimere i propri candidati presidenti, quindi Capulio, Raffaele Fitto, Le Marche con Francesco Acquaroli, siamo già ovviamente al lavoro per queste campagne elettorali e per le altre che, ripeto, sono secondo noi una sfida molto importante dei prossimi mesi, nei quali riteniamo che Fratello d'Italia possa e debba avere un ruolo sempre più centrale, perché questo stanno chiedendo i cittadini e su questo noi lavoriamo. Chiaramente le elezioni abbiamo detto e ribadiamo che avevano una importanza che andava oltre il contesto delle regioni nelle quali si votava. Qualcuno pensa che il governo possa uscire rafforzato da questo risultato elettorale, io francamente non la vedo così, per le ragioni che vi ho già spiegato, credo che in qualche maniera, in particolare il risultato dei 5 Stelle produrrà molto nervosismo all'interno del governo, ma a Monte mi chiedo e vi chiedo se sia normale una nazione nella quale noi abbiamo un governo la cui principale forza parlamentare non esiste nel Paese. Cioè noi abbiamo una nazione governata da un partito, primo partito in Parlamento, un partito più rappresentativo nel governo che di fatto non esiste più nel sentimento dei cittadini. Io non lo considero così normale e chiaramente non dipende da me, ma penso che stia il Presidente Mattarella a valutare se questo Parlamento e conseguentemente il governo che rappresenta sia effettivamente capace di esprimere il sentimento nazionale o se sarebbe meglio invece sciogliere questo Parlamento, andare a libere elezioni e consentire agli italiani di rappresentarsi in maniera più adeguata e di avere un governo che possa meglio rappresentare il loro sentimento. In ogni caso, se così non sarà, noi siamo pronti a lavorare e a continuare la nostra opposizione seria e costruttiva per l'interesse degli italiani. Ripartiamo dalla nostra principale battaglia di queste settimane che è la raccolta di firme sulle quattro proposte di legge di iniziativa popolare in materia costituzionale sulle quali stiamo raccogliando 50.000 firme. Contiamo di raccogliere quelle firme entro il mese di febbraio e quindi di portare queste proposte di legge di iniziativa popolare con un iter facilitato in Parlamento perché si possa intanto lavorare e lavorare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi anche a definire un assetto istituzionale in Italia che sia più adeguato al nostro contesto. Vi ricordo che le quattro proposte di iniziativa popolare sono prima di tutto quelle per l'elezione diretta del Capo dello Stato, il modello delle regionali nel quale si vota, racconta quello che ci piacerebbe accadesse anche a livello nazionale con un'elezione diretta del Capo dello Stato, il tema del taglio, la posizione dei senatori a vita, vi chiedo scusa, l'introduzione in Costituzione di un tetto alle tasse e il tema di una clausola di salvaguardia all'interesse nazionale nel rapporto con le norme europee. Su queste quattro proposte noi saremo il prossimo fine settimana in tutte le piazze italiane per chi vorrà aiutarci a dare all'Italia un assetto istituzionale più moderno, efficace, efficiente e capace di rispondere ai bisogni alle stanze dei cittadini, confidiamo entro fine febbraio di raccogliere le firme e queste sono le prossime battaglie che porteremo avanti. Ripeto, siamo e chiudo molto soddisfatti del risultato di Fratelli d'Italia, della responsabilità che questo comporta per cui ci rimbocchiamo le mani, ricominciamo a lavorare sperando che la democrazia in Italia possa tornare anche a livello nazionale in un tempo rapido e che gli italiani possano avere un governo capace di rappresentarli a livello nazionale più di quanto non possa fare l'attuale governo. Io vi ringrazio, se avete domande sono ovviamente qui. Eccoci. Eccola. Se posso, faccio un po' pello alla sua onestà intellettuale, le riconosco la politica consumata qual è? Cioè, non giriamoci però... Una premessa molto pericolosa. Però non giriamoci intorno, il voto in Emilia-Romagna non è un 8 a 1, l'Emilia-Romagna non era una regione deletante. Anche lei aveva detto, in caso di vittoria, sono la prima a chiedere le elezioni anticipate. Anche per ritornare su quello che ha detto, no? Mai come in questo caso c'è stata la sensazione di poter vincere, cioè di un terreno, di una regione contendibile. Le chiedo se la campagna elettorale, impostata da Matteo Salvini, come un referendum sulla sua persona, ha muciuto alla coalizione di centrodestra. E un'altra domanda che le volevo fare riguarda sempre il centrodestra. È vero che Forza Italia esprimeva il candidato residente in Calabria e ha avuto una buona affermazione anche con la lista Salidelli, Presidente, però in Emilia-Romagna Forza Italia ha preso il 2,6%. Ecco, non abbiamo i flussi, ma è facile pensare che questi voti si siano spostati al suo partito se questo non rischia di diventare un problema all'interno della coalizione di centrodestra. Allora guardi, sulla prima domanda tagliamo subito la testa al toro. Io so benissimo che adesso voi farete, che insomma queste saranno giornate nelle quali arriveranno decine di domande su vediamo se la Meloni prende le distanze da Salvini, vediamo se la Meloni contesta la Borgonzoni, vediamo come riusciamo a spaccare la coalizione di centrodestra. Non è nel mio stile. Intanto io sono convinta che il risultato del centrodestra in Emilia-Romagna sia un risultato di tutto rispetto, perché è vero, e l'ho premesso, che noi abbiamo lavorato per vincere ed è vero che la vittoria era oggettivamente possibile, ma se ci guardiamo a due anni fa, due anni fa non è che il centrodestra non poteva vincere, il centrodestra non esisteva in partita, chiaro? Per cui arrivare a tenere tutti col fiato sospeso in un'elezione come l'Emilia-Romagna è in ogni caso un ottimo risultato. Poi certo, quando io sono una persona che no, quando uno fa una campagna elettorale soprattutto se la perde, poi deve sempre imparare qualcosa da quella campagna elettorale e io so che cosa bisogna imparare secondo me anche da questa campagna elettorale, però non ho niente da recriminare verso nessuno. Noi abbiamo fatto la nostra parte, sono felicissima del lavoro che ha fatto Fratelli d'Italia. La Lega rimane comunque un partito che sta oltre il 30%, quindi non si può dire niente, anche Salvini ha fatto una campagna elettorale comunque pancia a terra, abbiamo fatto tutti quello che potevamo fare per vincere. Poi si può fare sempre meglio, si può fare sempre di più, ma io non utilizzerò il risultato dell'Emilia-Romagna per spaccare la coalizione di centrodestra o per creare malumori all'interno della coalizione centrodestra, perché so che l'obiettivo sono prossime sei regioni e si possono vincere tutte e sei con un lavoro di squadra, magari più di squadra, sicuramente si può fare sempre meglio sul lavoro di squadra, questo sì, però assolutamente credo che la coalizione si sia dimostrata una coalizione compatta e competitiva. Sui flussi interni, Forza Italia e il risultato di Fratelli d'Italia, io posso dire una cosa, il risultato di Fratelli d'Italia, la particolarità dal mio punto di vista, anche nel campo del centrodestra, è stato un risultato molto omogeneo, cioè tra la Calabria dove noi, confermiamo un dato molto buono già delle elezioni europee e ci assistiamo intorno all'11% ma mancava qualche sezione, e l'Emilia-Romagna che invece è una regione dove noi storicamente siamo sempre stati in sofferenza, per intenderci alle elezioni europee, l'Emilia-Romagna era un 30% di sotto della nostra media nazionale, abbiamo preso il 6,4% a livello nazionale all'europeo, in Emilia-Romagna stavamo al 4,5%, quindi io sono molto contenta del risultato. Che cosa dice? Dice che Fratelli d'Italia, tra chiaramente una capacità di radicamento sul territorio e un voto di opinione ormai diffuso, ha una media di consenso che è omogenea, da nord a sud, un partito nazionale che ha, diciamo poi con le sue oscillazioni, ma intorno sempre ormai al 10-11%, quella è la media. Gli altri partiti hanno, anche nel campo del centrodestra, delle oscillazioni molto più ampie, no? Cioè la Lega tra il 30% dell'Emilia-Romagna e il 12% della Calabria è un'oscillazione importante, forse Italia tra il 12% della Calabria del 2-3% dell'Emilia-Romagna ha un'escillazione importante. Io non so questo da che cosa derivi e non sono neanche convinta, guardi, che diciamo sia automatico il travaso, la politica è una cosa un po' più complessa dell'aritmetica. Non è che se Fratelli d'Italia guadagna due punti e Forza Italia perde due punti è stato automatico il travaso, anche perché in teoria i numeri non tornano, cioè noi guadagniamo più di quanto perde Forza Italia in Emilia-Romagna se non vado errata, perché credo che la crescita di Fratelli d'Italia sia una crescita dovuta da diversi ambiti. Credo che per esempio una parte dell'elettorato deluso del Movimento 5 Stelle, che da destra aveva votato Movimento 5 Stelle, stia continuando a tornare a casa e quindi non posso dire che il travaso avviene unicamente all'interno del campo del centrodestra e fra l'altro non è quello su cui noi abbiamo lavorato. Perché per intenderci, in Emilia-Romagna se noi, se di fronte alla crescita di Fratelli d'Italia gli altri avessero tenuto, gli altri partiti avessero tenuto numericamente i dati dell'Europa, noi avremmo vinto. Per cui il gioco nostro deve essere quello di cercare di accrescere il consenso al di fuori del nostro perimetro e io così ho fatto la campagna elettorale in Emilia-Romagna, poi non so se è riuscito o se non è riuscito, però il gioco nostro non deve essere quello di guardare al nostro interno, non ha senso. Il nostro gioco deve essere quello di andare a recuperare in un elettorato ormai inuscitissima dal Movimento 5 Stelle, nel campo del non voto, nel campo degli indecisi che sono ancora dei bacini elettorali molto importanti e credo che appunto il dato dell'Emilia-Romagna anche qui ci insegni che la nostra avventura funziona e vince se tutti quanti invece di lavorare magari per rosicchiare qualcosa al nostro interno, lavoriamo per rosicchiare tutti insieme qualcosa al nostro esterno. Vabbè, ma il calo vistoso di Forza Italia non la preoccupa in vista delle future battaglie delle campagne? Eh beh, certo, mi preoccupa, diciamo non voglio essere ingenerosa con un partito che ha una difficoltà in questo momento, ho avuto sicuramente l'Emilia-Romagna una difficoltà che spero possa recuperare e che per quello che possiamo fare per aiutare a recuperare lo faremo, insomma noi siamo una coalizione compatta, è una coalizione che ha diciamo una sua capacità anche di rappresentare mondi diversi, di rappresentare sensibilità diverse, per cui è bene che tutte quelle sensibilità siano rappresentate, poi vedremo che cosa accadrà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, ma ripeto, il dato è talmente disomogeneo che è anche un po' difficile valutarlo in questo contesto, perché anche il dato di Forza Italia è un dato molto disomogeneo tra due regioni, io posso solamente dire che è sicuramente omogeneo il dato dei Fratelli d'Italia e il mio compito è soprattutto valutare il risultato del mio partito, non valutare il risultato del partito degli altri, perché non sarebbe corretto, non sarebbe onesto da parte mia. Alti? Lei prima ha sottolineato la necessità di continuare a fare il lavoro di squadra all'interno della proiezione centrodestra, ecco allora le domando, è stato sbagliato il metodo che ha portato all'individuazione della Borgonzoni come candidata? No, guardi, noi abbiamo fatto degli accordi e gli accordi si rispettano, quando si chiudono ognuno ha una responsabilità, poi si rispettano, esattamente come io mi aspetto che i miei alleati mantengano gli accordi che abbiamo preso per le prossime regionali, io le dico che Fratelli d'Italia ha partecipato a un metodo, noi abbiamo scelto insieme dei candidati, per cui troppo facile arrivare alla fine della campagna elettorale se è perso e mettersi a dire ah il candidato era sbagliato, io al tempo, noi abbiamo fatto le nostre proposte, al tempo anche sull'Emilia Romagna, come l'abbiamo fatta sulla Calabria, come l'abbiamo sempre fatta sulle regionali, però poi il candidato l'abbiamo condiviso e quindi è giusto che poi in una squadra si condivinano le vittorie e le sconfitte, ripeto, come io mi aspetto che per il futuro, per le prossime regioni nelle quali si voti, i nostri alleati rispettino i patti e facciano la campagna elettorale pancia a terra come noi l'abbiamo fatta in Emilia Romagna e in Calabria, nonostante il candidato presidente non fosse di Fratelli d'Italia. Altri? Io penso che le Sardine abbiano giovato sul piano politico a una sinistra che chiaramente era in grande difficoltà sul piano della presentabilità e che mandando avanti le Sardine è riuscita a far recuperare al suo elettorato un orgoglio e poi credo che abbiano giovato perché dobbiamo dirci la verità che queste Sardine sono servite anche a violare tutte le regole di una campagna elettorale perché, scusate, ma se noi siamo in parcondicio e il tempo delle Sardine che stanno facendo la campagna elettorale per la sinistra e Bonaccini non viene computato nei tempi della parcondicio, abbiamo un problema. Cioè ieri uno dei principali quotidiani italiani nel giorno in cui si votava ha fatto un'intervista a tutta pagina a Mattia Santori. A me non sembra normale questa roba qui perché è ovvio che è facile fare la campagna elettorale così quando un 30% del tempo dovrebbe essere riservato alla campagna elettorale viene tolto ai partiti che si stanno combattendo e viene dato a dei soggetti che in teoria non sono candidati ma che fanno una campagna elettorale chiaramente politica e partitica. Quindi sì, sicuramente hanno giocato, diciamo, sui tempi della parcondicio e sulla campagna elettorale per violare un po' di regole hanno giocato parecchio. Sono state violate anche come da centrodestra, centrosilistra, social? No, scusi, questo vuol dire violare il silenzio elettorale, lei dice, ed è tutto da verificare. Se ci sono state le reviolazioni, io comunque non ho detto una parola per esempio, ma in ogni caso non le sto dicendo questo, le sto dicendo che in campagna elettorale, per tutta la campagna elettorale, noi abbiamo avuto le sardine che venivano infilate nei pastoni dei DG, per intenderci, con la dichiarazione delle sardine che non veniva computata a centrosinistra ma che era una dichiarazione in favore del centrosinistra che toglieva, diciamo, che quindi faceva saltare tutti i rapporti. Siccome le regole della parcondicio sono molto stringenti, secondo me questo è stato un modo di violare la campagna elettorale, perché noi sapevamo che le sardine facevano una campagna elettorale per Bonaccini e quindi o i tempi si computavano oppure si computavano, per come la vedo io. Quindi in quello credo che siano stati molto utili alla sinistra. Per il resto non penso che abbiano spostato consenso, non penso che abbiano spostato, penso semplicemente che abbiano contribuito a dare, a restituire, come dicevo, un orgoglio di apparire in Ensa, una voglia di andare a votare, di combattere l'avversario che la sinistra aveva per la sua difficoltà, per le difficoltà del PD, per le difficoltà di partiti che hanno più o meno tradito tutto quello che avevano detto, che hanno fatto il contrario di quello che avevano promesso, che si sono alleati con gente che consideravano impresentati. Cioè tutta questa roba qui che ha disamorato l'elettorato, chiaramente le sardine hanno dato una mano a recuperare quell'orgoglio, questo penso che si, quindi ha mobilitato l'elettorato di cento. Senta, Bibiano, che sta un po' il vostro cavallo di battaglia in campagna elettorale, chi ti dico come il risultato del primo partito? Beh, non ne dubitavo, Bibiano è un comune che sta nella provincia di Reggio Emilia, che è la provincia come sappiamo più schierata, più rossa si direbbe, dopodiché mi interessa minimamente nel senso che io sono stata la prima ad arrivare a Bibiano e sarò l'ultima ad andarmene da Bibiano. Non perché mi interessi riconoscere una responsabilità del Partito Democratico sui fatti di Bibiano. Io sono andata lì e sto lì perché secondo me è una civiltà degna di questo nome, non si gira dall'altra parte di fronte a fatti presuntamente così gravi, perché ha qualche partito da fastidio. Io non credo che il problema del PD su Bibiano sia che ha un sindaco coinvolto, perché io faccio il segretario a un partito politico e so bene che può accadere che un tuo rappresentante faccia delle cose che tu non conoscevi e non condividi. Quello che io non ho capito del PD è perché ci hanno messo la faccia sopra così, perché votano contro l'emendamento di Fratelli d'Italia che chiede eventualmente di risarcire le famiglie rispetto alle quali dovesse esserci, una sentenza di condanna passata in giudicato, cioè quando fosse dimostrato che le istituzioni si sono comportate in modo inadeguato e di solito quando lo Stato sbaglia tende a risarcire e il PD vota contro l'emendamento di Fratelli d'Italia per risarcire quelle famiglie e io trovo che questo sia scandaloso. Ma non mi interessava i fini della campagna elettorale, mi interessa i fini di una nazione che su un tema del genere deve fare giustizia e deve andare fino in fondo per avere la verità. Lei alla prima domanda a un certo punto ha detto una cosa molto interessante, se potessi chiedere di poter lasciare ancora meglio, cioè diceva io so che cosa, o il termine esatto non mi ricordo, abbiamo sbagliato in questa campagna elettorale, ce l'hai detto è andata molto bene in ogni domanda. Io no, abbiamo sbagliato, so cosa si può migliorare, si può sicuramente, ma già te l'ho detto, si può sicuramente migliorare il gioco di squadra, cioè si può fare un lavoro più condiviso, i candidati del centrodestra e bene che oltre a essere scelti dal centrodestra vengano percepiti come candidati di tutta la coalizione, quindi credo che ci voglia la capacità di fare una campagna elettorale un po' più insieme. Questa è una cosa che secondo me rafforza la coalizione nel suo complesso perché altrimenti chiaramente lavorare sulla crescita dei singoli partiti può giovare al singolo partito ma non alla coalizione nel suo complesso. Un'altra domanda, mi scusi, lei poi ha detto, riferendosi al suo partito e alla proposta di Fratelli d'Italia, che bisogna prendere voti fuori dal recinto del centrodestra, adesso la domanda è, finora Fratelli d'Italia è stata più in concorrenza con la Lega, secondo alcuni, secondo noi che guardiamo la politica, lei per molto a lungo ha fatto un po' la saldina, mi scusi, non la saldina, come ci si distingue dalla Lega e come si prendono le voti al di fuori dal recinto del centrodestra? Ma guardi, lo abbiamo già fatto, lo abbiamo già fatto, quindi forse non eravamo così saldina come lei mensa, perché io ho raccontato, ho spiegato, quando voi non lo prendevate minimamente in considerazione, quando tutti dicevano la Lega è in grande crescita, quindi Fratelli d'Italia scomparirà, si poteva crescere insieme ed è esattamente quello che è accaduto, perché Fratelli d'Italia è una proposta diversa da quella della Lega, compatibile, cioè la differenza tra noi e la Lega e i 5 Stelle e il PD o la Lega e i 5 Stelle è che noi siamo delle forze politiche compatibili sul piano della visione, cioè sulle grandi questioni del nostro tempo la vediamo tendenzialmente in maniera conforme, poi però abbiamo molte differenze che si sono, mi pare, raccontate e strinsecate, sulle quali voi tra l'altro avete molto giocato in campagna elettorale, perché no? Qualunque sfumatura è diventata, si smarcano, prendono le distanze, siamo due partiti diversi, è normale che diciamo anche cose diverse, di rato diciamo cose distoniche, cioè che non potrebbero avere una compatibilità, ma sicuramente è giusto diciamo delle cose diverse, altrimenti facciamo un partito unico e abbiamo risolto il problema, ma non lo abbiamo nei nostri, diciamo, obiettivi, quindi a me pare che noi abbiamo già dimostrato che si può crescere insieme e prendere voti fuori, se Fratelli d'Italia è cresciuta mentre la Lega cresceva, è da qualche altra parte abbiamo preso i voti, eh? Più a destra o più a centro? Sono categorie della politica un po' superate, dipende, dipende, io penso che noi abbiamo preso dei voti di credibilità, di serietà del progetto, a destra e al centro, abbiamo preso i voti di un serio partito che fa battaglie, diciamo così, politicamente scorretti, contro i privilegi, contro no, di un partito, tra virgolette, che potrebbe nella semplificazione essere definito antisistema, quello che il 5 Stelle non ha saputo essere, il Movimento 5 Stelle non ha saputo essere, poi c'eravamo noi che abbiamo votato a favore del taglio dei parlamentari, siamo stati l'unico partito a non prestare i propri rappresentanti per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari, ma non per questo abbiamo svenduto tutto quello che avevamo, cioè c'è un modo più serio di farlo, esattamente come abbiamo preso voti da un'ala, secondo me, delusa, anche da pezzi di centrosinistra o che era orfana di un mondo di sostegno alle categorie produttive, di attenzione ai professionisti, ci siamo molto dedicati a questi temi, io credo che ci sia buona parte del mondo della produzione che oggi guarda con interesse a Fratelli d'Italia, dove votava? Va, presumibilmente ovunque, per questo dico, sono categorie che poi bisogna, quando tu fai una proposta politica chiara, chiara, seria, credibile, quello, mi ha fatto sorridere Vittorio Sgarbi, diceva qualche giorno fa, Fratelli d'Italia lo votano perché è come Larry's Bar, può piacerti o non piacerti ma sta lì, cioè quello, sai esattamente cos'è, io considero un complimento, tutti sanno cos'è Fratelli d'Italia, non c'è trucco, non c'è inganno, non ci saranno sorprese, siamo quello, questa roba qui in un tempo nel quale i partiti sono tutti un po' fogli al vento è un valore, ed è un valore che può attrarre a 360 gradi dal mio punto di vista. Altri? Il candidato che si opporrà al ministro Gualtieri sono fiera di annunciare che sarà Maurizio Leo, grande, insomma, è una persona che ha anche già fatto un percorso politico ma che sicuramente è uno straordinario professionista proprio nel campo del fisco, della difesa delle imprese, delle categorie produttive, delle PMI, è una persona che si è battuta sul taglio delle tasse, è stato quello che si è inventato la nostra storica proposta di una tassa piatta sui redditi incrementali, considerata da tutti la proposta più seria fatta in materia di flat tax negli ultimi anni e quindi abbiamo scelto per affrontare il ministro Gualtieri una persona che possa rispondere nel merito al ministro Gualtieri sulle politiche economiche scelerate che questo governo sta facendo. Siamo ovviamente già pronti a fare la campagna elettorale, stiamo già lavorando, mentre facciamo questa conferenza stampa di commento, la campagna elettorale che si è chiusa ieri, già stiamo lavorando sulla campagna elettorale che si apre oggi nel collegio di Roma 1, dove sarò molto presente. Vi ringrazio, buona giornata e buon lavoro.